ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ci troviamo oggi con franklin e faremo un altro video dedicato a gta 5 il single player oggi andremo a raccogliere i 50 pezzi dell'astronave per poter costruire una delle macchine più strane più brutta e più particolare dell'intero gioco sto parlando della space dogger l'auto degli alieni quella che ci costruirà omega appunto non appena gli avremmo portato tutti i 50 pezzi dell'astronave non è niente di che questa macchina non ha armi non ha poteri speciali con una bomba adesiva esplode però c'ha una particolarità al posto del claxon emette questi suoni questi suoni se avete finito il gioco al 100% vi serviranno per contattare gli alieni alle 3 di mattina sopra il monte ciglia ma solo se avete fatto il 100% dei progressi io su questa nuova versione per ps5 devo ancora finire la storia e sono tipo al 60% non penso che arriverò al 100% ma nel caso ci arrivassi vi porterò questo evento questa cosa ma non penso eh raga come sempre vi ho messo i frammenti i pezzi di astronave tutti vicini e vi assicuro raga che ho dato uno sguardo a altri video su youtube e non c'è un giro più comodo di quello che ho fatto io io ho usato la mia solita mappa gtaweb.eu è la mappa che uso per i forzieri per il gunvan eccetera eccetera e l'ho usata anche per fare questo video e veramente raga non c'è giro più comodo e più veloce di questo che vi ho portato l'unico errore è che mi è successo un po' come con i frammenti di lettera i primi 3 pezzi di astronave li ho raccolti senza sapere che erano là perciò raga dopo il terzo dal quarto in poi sono messi uno attaccati agli altri ma anche i primi 3 sono in una zona abbastanza vicini per avviare questa ricerca è semplicissimo dovete recarvi con Franklin a uno dei punti di domanda che troverete sulla mappa e nel Grand Senora Desert troverete Omega e vi partirà questo filmato 5-0 8-9-Zeta-3X wait 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 stop what's the problem on wait carbon based life form check 6 feet tall Check Slightly excessive adipose tissue Normal distribution Check Readings are Readings are Shoot This little machine is broken again Check Stardate 14-9-305 Time is 789 past the Manc Meridian We are clear Greetings CBL Carbon-based life form Greetings, home Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know They came to me last week There was a brilliant joy And a terrible confusion And they were laughing and screaming and crying all at once And some said Omega We come in peace And others said We have come to enslave you We are an infinitely intelligent race of supercosmic beings And out of the 6 billion people on this planet We have chosen you for no good reason And just then They were about to abduct me And do experiments on me When their ship crashed Man, you done lost your motherfucking mind And now I've got to find the pieces Bullshit Look Look See this? Hmm? If you see some If you see some Let me know Yeah, yeah Okay, I will, man Come successo con i frammenti di lettera Per raccogliere pezzi dell'astronave Potete usare il personaggio che preferite Ma una volta raccolto il cinquantesimo pezzo Che sarebbe l'ultimo Per farvi dare la macchina da Omega Dovete andare solo ed esclusivamente Con Franklin Ora, basta chiacchiere Cominciamo con il primo frammento E come potete vedere Non sapevo proprio Che qua c'era un frammento Mi è partito questa specie di evento Di ascoltare Questa coltivazione E dentro in un capanno C'era il nostro pezzo di astronave Vi farò un piccolo taglio Fino al momento Che raccolgo il pezzo di astronave Primo pezzo di astronave Lo possiamo trovare Dentro a questo capanno Tranquilli Ora vi metto anche La posizione sulla mappa Ed ecco la zona precisa Sulla mappa Passiamo al pezzo di astronave Numero 2 Qui potete anche trovare Un frammento di lettera E dentro questa specie Di mansarda Veranda Non so come chiamarla Possiamo trovare Il nostro pezzo di astronave Siamo sempre nella zona Dove in GTA Online Abbiamo il laboratorio di MET Più economico Esattamente qua Passiamo al numero 3 Fate attenzione Perché se è la prima volta Che passate di qua Vi partirà questa specie di evento E il nostro pezzo di astronave Lo possiamo trovare Sotto quell'aereo Se vi ricordate Se vi ricordate avete visto il video Del frammento di lettera Sto andando a recuperare Anche un frammento di lettera Ma vi faccio direttamente Un piccolo taglio Giusto per farvi solo vedere Questo evento Ok Piazza pulita fatta Esattamente Sotto qua Possiamo trovare Il nostro pezzo di astronave Ora vi mostro La posizione esatta Sulla mappa Da adesso in poi Sono tutti Messi vicini Raga Da qua è iniziata La ricerca Vera e propria Altro piccolo consiglio Se non avete voglia Di farvi i chilometri In macchina Spostatevi con il taxi Io sia per i pezzi Di astronave Che per i frammenti Di lettera Ho chiamato Spesso il taxi Così da non dover Viaggiare Da una parte All'altra Della mappa Oltre il tutto Il taxi Non è come in GTA Online Potete sempre Saltare il viaggio E sono molto Più economici Il pezzo di astronave Numero 4 Lo possiamo trovare Sopra questo radar Sopra questa antenna Non so neanche Come definirla La posizione esatta Sulla mappa È questa Spostiamoci adesso Al numero 5 Siamo praticamente 500 Ognanche Metri più avanti E sopra queste rocce Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave La posizione esatta È questa Più o meno Nella zona Dove possiamo incontrare Omega Passiamo al numero 6 Siamo nell'Alamo Sea Esattamente Al paese di Trevor E il nostro pezzo Di astronave Lo possiamo trovare Pochi metri Sott'acqua Esattamente In mezzo A queste tre rocce Passiamo al numero 7 Siamo nella zona degli hippie Zona degli alieni Chiamatela come volete E su per queste scale Dove abbiamo Questi disegni Bizzarri Dove si stanno Inchiappettando Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Esattamente Qua sopra Andiamo per il numero 8 Il numero 8 Si trova Letteralmente In mezzo alle vacche E in mezzo a questo recinto Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Siamo dalle parti Della Lamo Sea Vicino alla pista D'atterraggio McKenzie Andiamo per il numero 9 Ci troviamo A dest della mappa E possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Dentro questa rimessa Andiamo per il numero 9 Il numero 10 Ci troviamo a Paleto Bay E lo possiamo trovare Dentro a questo capanno Spostiamoci adesso Al numero 11 Siamo sempre a Paleto Bay E lo possiamo trovare Nella torre Dove fanno L'esercitazione I vigili del fuoco Non fate caso Al pallino azzurro Dietro di me Mi era partito Un evento Uno di quei furgoni Da rapinare Ma il nostro pezzo Di astronave Lo possiamo trovare Al secondo piano Qua dentro Andiamo per il numero 12 Siamo un po' fuori Paleto Bay E sulla strada Che ci porta Allo Santos Se svoltiamo a sinistra Sotto questo acquedotto Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Esattamente qua Spostiamoci al numero 13 Esattamente in mezzo A questi due alberi Abbiamo il nostro pezzo Di astronave Andiamo per il numero 14 Siamo sotto il ponte ferroviario Che conduce a Paleto Bay Impossibile sbagliare Ve l'ho fatto vedere Solo per completezza E il nostro pezzo Di astronave Lo abbiamo qua Ora raga Passiamo al numero 15 Che è quello Secondo me Più difficile Da prendere Il mio consiglio È venite in questa zona Che vi faccio vedere E rubate Quest'elicottero O se volete Ne avete uno personale Prendetelo Perché il pezzo Di astronave Si troverà Sotto quel ponte Il problema Che per arrivarci Dovete Paracadutarvi Perché l'elicottero Non si può parcheggiare Nella zona Dove c'è il pezzo Di astronave Vi velocizzo Un po' la clip E vi faccio vedere La situazione Veramente Intricata Io raga Due volte Due volte Sono morto Al terzo Tentativo Ce l'ho fatta Ma ero abbastanza Demoralizzato Perché non Conta solo La bravura Ma ci serve Anche un pizzico Di fortuna Come vedete Il pezzo di astronave È la che Lampeggia L'unico L'unico modo È saltare Ho provato A parcheggiarmi Non si riesce A parcheggiare L'elicottero Perché le eliche Sbattono sempre L'unica cosa È saltare Col paracadute Quindi raga Armatevi Di pazienza Calcolatevi Bene il salto E cercate Di atterrare In maniera Giusta Vi faccio vedere Il mio tentativo Fallito E poi vi faccio vedere Come ce l'ho fatta Così potete studiarvi Il salto Come l'ho fatto io O se avete Un altro metodo Scrivetelo Nei commenti Così da facilitare La ricerca A qualcun altro Altra cosa Non atterrate Dove c'è Il frammento Perché lì È ancora più stretto E il paracadute Si stacca Io qui Sono stato Veramente Sfortunato Cioè Mamma mia Voi non avete idea Delle bestemmie Raga Ok Veniamo al prossimo Tentativo Chiaramente Sono morto Non mi ricordo Se ho fatto Carica partita O se sono andato La direttamente Comunque Ho preso sempre Il solito elicottero Mi sono messo Un po' più a sinistra Del pezzo di astronave E sono stato Anche un po' più basso Come potete vedere Sono andato Via liscio Sto giro Ho rischiato Ma comunque Ce l'abbiamo fatta Veramente Un posto assurdo Penso che un sacco di gente Ha maledito Lo sviluppatore Che ha messo qua Questo pezzo di astronave Mi sono messo anche La camminata furtiva Raga Perché ero già caduto Due volte E tutto il tempo Mi dicevo Non c'è due Senza tre Quindi Sono andato Molto Cauto La posizione esatta Penso che la sapete Ma ve la faccio vedere Comunque Andiamo per il numero 16 Siamo letteralmente In figa e lupi Siamo sopra Una montagna Sperduta Vi chiedo scusa Se in sottofondo Si sente la lavatrice Ma l'ho dovuta far partire Visto che c'è un po' di sole Almeno mi si asciuga Prima la roba Problemi da grandi Problemi da grandi La zona esatta È questa Controllate bene Raga Perché come potete vedere Ci sono pochi punti Di riferimento Prendete come punti Di riferimento La ferrovia E Zancudo Magari Perché siamo Letteralmente In mezzo al nulla Andiamo per il numero 17 Sotto questo Ponte di legno Questo è il ponte Di legno Vicino alla chiesa Il ponte di legno Che conduce A For Zancudo Zona conosciutissima Come potete vedere Raga Ve li ho messi Tutti attaccati E questa è la locazione Esatta Passiamo adesso Al numero 18 Siamo sempre Lungo il Zancudo River Quando sfocia Nell'Alamo Si Esattamente qua Andiamo per il numero 19 Lo possiamo trovare Al fianco di questa barca Siamo vicino alla pista D'atterraggio Di Sandy Shore Spostiamoci al numero 20 Qui ho avuto Un piccolo Inconveniente Come potete vedere C'è anche la scritta Welcome Con la faccia Degli alieni E qui abbiamo Un pezzo Della navicella Non so perché Sono anche stato Aggredito Datemi un attimo Raga Che vi faccio Subito vedere La locazione Ed eccola qua Passiamo al numero 21 Non so come Chiamare questa zona Ma siamo Praticamente Vicino Al frammento Di prima Come vedete C'ho ancora Il livello Di sospetto Della sparatoria Avuta Pochi minuti Fa La zona È questa Passiamo adesso Al numero 22 Ci troviamo A destra Della mappa E in riva Al mare Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Ed eccoci qua Partiamo adesso Con il numero 23 Siamo alla Diga di Los Santos Dopo quella Specie di laghetto Impossibile Sbagliare Raga Zona Conosciutissima Io non avevo Ancora scoperto La mappa Come potete vedere Ma è una zona Che riconoscerete Facilmente Ve lo rifaccio vedere Giusto perché Non si vede bene La mappa Veniamo adesso Al prossimo Pezzo di astronave Siamo sempre Alla diga Di Los Santos Stavolta All'inizio Del laghetto E sotto il molo Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Ed eccolo qua Numero 24 Partiamo adesso Con il numero 25 Siamo praticamente Dopo la zona Alla mesa Impossibile Sbagliare Scendete queste scale E sopra uno Di questi pezzi Del canale Fognario Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave 25 Siamo a metà Perfetta Raga Dai E' super veloce Come cosa Vedrete che Avrete la macchina In un batter D'occhio Passiamo al numero 26 Siamo dalle parti Del burro Heights Esattamente Nel cortile Di questa fabbrica Dentro il container Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Ed eccolo qua Alla fine Alla fine Sono tutti attaccati Veramente Sono tutti attaccati E' stato Velocissimo Anche per me Io guardando la mappa Più o meno Ci ho messo Un'oretta E un quarto Così Quindi credo Che voi col video Ci mettete di meno Numero 27 Ci troviamo A sud est Di Los Santos E sopra questi scogli Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Andiamo per il numero 28 Siamo sempre Nella stessa zona E in questo scolo Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Ed ecco qua Il 28 Andiamo per il 29 Ci troviamo Ad Elision Island Praticamente Fuori dalla base Della Maryweather Sott'acqua In mezzo a queste lamiere Abbiamo il nostro Pezzo di astronave La zona esatta È questa Passiamo al numero 30 Abbastanza Incasinato Non incasinato Ma lunga Come ricerca Le scale Per salire Sono in questa posizione Vi faccio vedere Le posizioni Delle scale E poi la posizione Del pezzo D'astronave Prendete le scale Non vi faccio tagli Vi velocizzo Direttamente La clip E seguite La mia strada E sopra Questo tubo Mi raccomando Occhio a non cadere Abbiamo il nostro Pezzo di astronave La zona del pezzo È questa Passiamo al numero 31 Siamo dentro L'aeroporto Di Los Santos E dietro Uno degli hangar Abbiamo il nostro Pezzo di astronave In GTA V Se entrate Nell'aeroporto Vi vengono Tre livelli Di sospetto Non è come GTA Online Quindi fate attenzione Andiamo per il 32 Siamo in zona Vagos E dentro questo parco Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Numero 33 Siamo sul tetto Dell'ospedale Vicino a Grove Street Impossibile sbagliare Zona di spawn Della Pegasus In GTA Online Se chiamate La Pegasus Quasi sempre Siete da queste parti Il Buzzard O qualsiasi altro Olicottero Ve lo parcheggia Su questo tetto Andiamo per il 34 Siamo in zona Senza tetto Sotto il ponte Dell'autostrada E dietro questo divano Abbiamo il nostro Pezzo di astronave E la zona è questa Numero 35 Siamo dentro Questa specie Di mercato Passaggio pedonale E in questo angolo Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Numero 35 Partiamo con il 36 Siamo in cima All'edificio Penris Ogni tanto Quando fate le armi Di Caio Perico Vi manda Pavel In questo edificio Siamo praticamente In centro Allo Santos Andiamo per il numero 37 Siamo nelle fogne Vi faccio vedere L'entrata Delle fogne Che si trova qua E dopo Vi faccio vedere Chiaramente La zona Del pezzo di astronave Mi velocizzerò Anche un po' La clip Perché poi Ho guardato In un posto Dove voi Non dovete guardare Vi basterà lì Andare dritti E ci metterete Meno tempo di me Praticamente Io mi sono fermato qua Sono sceso Perché ero convinto Che fosse qua Ma non è questa la zona Voi raga Proseguite dritto Non scendete Qui non c'è proprio nulla Continuate dritte Tanto sicuramente Queste fogne Le riconoscete Dal colpo al casino E dove c'è Anche l'entrata Della IAA Del colpo Los Santos Tuners Qui abbiamo Il nostro pezzo Di astronave Ed eccolo qua Passiamo al numero 38 Siamo praticamente Dove c'è I grandi magazzini Di Rockford Hill E dentro Questo giardinetto Dietro un cespuglio Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Ed eccolo là Numero 39 Siamo sempre in centro Los Santos E dentro questa piscina Svuotata Abbiamo il nostro Pezzo di astronave Vai raga Ne mancano 11 Credo in voi Vedrete che ancora Tipo 10 minuti Un quarto d'ora E avete Completato La vostra ricerca Passiamo al numero 40 Siamo sempre Più o meno In centro Los Santos Più verso la spiaggia E in cima A questo cartellone Possiamo trovare Il nostro pezzo Di astronave Il nostro pezzo Numero 41 Lo possiamo trovare Agli studios Sopra questi tetti Come al solito Fate attenzione Perché appena entrerete Con Franklin Vi verranno Due livelli Di sospetto Spostiamoci al numero 42 Dentro il campo da golf Su questo isolotto Impossibile sbagliare Andiamo per il 43 Sopra questa specie Di torre Siamo In quel laghetto Che possiamo trovare Sopra Winewood Hills Ed ecco qua Il nostro pezzo Di astronave Il prossimo Lo possiamo trovare Immerso In questo lago Numero 44 Numero 45 Osservatorio di Los Santos Impossibile sbagliare Vai raga Ancora 5 Ed è fatta Ormai siamo proprio Agli sgoccioli Che Osservatorio di Los Santos Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Appena avete raccolto l'ultimo pezzo vi manderà un messaggio in Mega dove Omega vi dice che appena avete raccolto l'ultimo pezzo di andarli a fargli visita. E appena vi arriverà questo messaggio vi apparirà anche il suo simbolo sulla mappa. Dirigetevi nella zona e guardate il filmato. La zona da raggiungere è il camp degli hippie, una zona conosciutissima. Ora ci trasferiamo là, vi lascio al filmato e ci sentiamo dopo. Tutti i paparazzi in questa città sono assicurati. Grazie a tutti. Poi mettere questo spettacolo a loro specifici specifiche. Ho ottenuto ogni pezzo che ti senti. Excepto questo! Tu fai un uomo! Non è incredibile? Buongiorno, figlio, ma questa uomo è piccola! Beh, è piccola, ma molto potente! Sono molto più evoluzionati da noi. E sicuramente spero di farlo! Ci vediamo dall'altra parte, figlio! Per aver fatto il 100% dei progressi di gioco. Come ho detto prima, se mai ci arriverò vi porterò il video di quell'evento. Ma non penso di raggiungere il 100% in questa versione PS5. Raga, io spero che il video vi è stato d'aiuto. Come al solito, fatemi sapere la vostra nei commenti. Fatemi anche sapere se questo secondo voi è il giro più comodo. Ho dato un'occhiata agli altri video. E raga, sì, non perché l'ho fatto io. Ma questo è veramente il giro più comodo che potete fare per raccogliere questi 50 pezzi di astronave. Per questo video è tutto. Un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!